sembra proprio la parte più bella della moto proprio assolutamente il mezzo non è male per il resto anche il numero è bello un po' così fluo un pochino fashion abbiamo preso questo colore fluo 3 è un numero perfetto da 3 in giù da 3 c'è 2 c'è 1 4, 5, 6 non sono previsti o 3 o 2 o 1 quanta cavalleria abbiamo qua corsi? 135 cavalli messi giù benino oggi abbiamo fatto la libere è un po' sgaloppato domani si va ah beh decimo perché è voluto un pochino destabilizzare domani si va libere dove siamo? a Momelò a Barcellona noi siamo venuti solamente per mangiare noi siamo venuti solamente per mangiare mi dicono non essere sboccato per il gente non pari e palla 2,90 su diritto? 2,90 2,90 fa una bestia li raggiungiamo qua? ti raggiungono? 2,86 2,86 un pochino piano un pochino non è il manager il cavallo è stupendo domani portiamolo un pochino a sgaluffare e viva la vita perché poi qui è viva la vita e parati giusto e male bella per corsi andiamo a divertire il lavoro più bello del mondo scaloppala tutto il giorno che non è una scaloppina a limone questo è un gran bel mezzo come dici manager? non mi rida ma è che non parla ha mangiato troppo bella per noi fai male Simo stupenda